e riascoltare questo brano assume tutta una nuova gamma emotiva dopo il 28 ottobre del 2023 ovvero dopo la morte di Matthew Perley scusate io la butto sul tragico ma devo dire che io ormai non riesco a scinderle queste due cose per chi come me ha vissuto appieno quell'epoca e stanno data nell'84 devo dire che il libro di cui parliamo adesso Roberto Gerilli è al telefono e penso me lo possa confermare è un po tutto un bel magma emotivo buongiorno Roberto benvenuto buongiorno buongiorno grazie mille allora Roberto ha scritto questo romanzo che si intitola ancora amici e ovviamente insomma ha scelto questo brano però vorrei che me lo raccontassi tu come mai dal tuo punto di vista questo brano è adatto a questo libro ma allora vabbè principalmente perché il tema principale è appunto amicizia ma soprattutto perché si parla di amicizia della generazione millennial come ci chiamano e penso che tutti millennial sono legati come dicevi anche tu alla serie friends che è una serie che un po' a parte che continuiamo a rivedere anche a distanza di anni ma poi ha caratterizzato molto anche il nostro modo di scherzare un po di vivere l'amicizia esatto esatto e è un po diciamo fa parte di un mondo che racconta la nostra generazione quello che tu fai nel libro è un po' ripercorrere la vita con dei salti nel passato e dei ritorni al presente di questi quattro amici che in effetti si sono conosciuti da piccoli da adolescenti nel loro luogo di provenienza che è falconara marittima che è anche il tuo luogo di provenienza giusto? Esattamente esatto e ovviamente c'è questo diciamo confronto passaggio tra il piccolo paese e le città c'è uno di loro che ha deciso di restare nel paese gli altri che invece si sono allontanati ma la speranza è quella di mantenere comunque un rapporto nonostante il mondo perché poi è questo nonostante le vite nonostante anche un'evoluzione tecnologica su cui tu punti molto anche nella storia che in effetti ha diciamo allargato il gap la distanza tra una un'infanzia un'adolescenza di un certo tipo e un essere adulti di un altro tu giustamente sottolinei come le persone nate in quel periodo nate negli anni 70 80 diciamo 80 a un certo punto si sono trovate ad essere dipendenti dalla tecnologia ma a scoprirla diciamo quasi da non dico da ultima insomma da abbastanza grandi e questo ha fatto un po' la differenza giusto? Eh sì noi siamo diciamo l'ultima generazione che appunto ha visto la vita prima cioè senza internet e poi dopo e dopo e quindi ci siamo dovuti sicuramente abituare e poi siamo stati anche presi penso dall'entusiasmo della tecnologia, della novità e di tutti i vantaggi che comunque offre e quindi siamo stati molto entusiasti all'inizio adesso un po' con il tempo iniziamo un po' a vedere anche le parti negative eh ma soprattutto la differenza appunto che che causano era cioè diciamo le le distorsioni che causano i rapporti sociali e in particolar modo nell'amicizia. Uno dei protagonisti che poi è un po' diciamo l'iniziale voce narrante che è Claudio è un po' quello che ehm innesca sempre i processi no? I viaggi, gli incontri da questi quattro amici a un certo punto si trova ad aver inventato un'app eh che lui ha pensato proprio eh come app per cercare amici perché lui evidentemente insomma sente la mancanza di una presenza vicina, costante, quotidiana di questi suoi amici essendo quello che è rimasto nel paese eh diversamente dagli altri e e vorrebbe diciamo avere la possibilità di trovare persone che abbiano dei gusti in comune quindi fa quest'app eh che funziona perché funziona però funziona per un per trovare qualcosa di diverso e tanto è vero che insomma ehm funziona talmente tanto nel trovare storie veloci e eh eh diciamo amici di letto facili eh e lui ci rimane male perché dice ma io come l'avevo pensata per uno scopo più alto e poi finisce che state tutti in giro a scopacchiare grazie alla mia app è molto diciamo divertente anche un po' questa sua questa sua delusione rispetto a questa idea eh quasi diciamo utopistica no della anche dell'amicizia come mai l'hai l'hai pensato così questo personaggio e come ti è venuto in mente Claudio sei tu oppure sei un po' tutti e quattro? No eh io allora io sono un po' tutti e quattro e anche i miei amici sono un po' tutti e quattro cioè io ho voluto riassumere diciamo una ventina di amici in quattro personaggi e i personaggi sono nati soprattutto da eh dalla appunto dal dal modo in cui eh vivono l'amicizia eh superati trenta perché appunto il libro è nato come cioè l'idea fondamentale è questa cioè analizzare un po' come si fa amicizia arrivati a una certa età e quindi Claudio è appunto l'amico che cioè la la persona che non non ha cioè secondo lui non ha bisogno di nuovi amici perché ha quelli quelli di sempre e si attacca a quelli di sempre anche se sia per una questione di distanza geografica che appunto anche come dicevi prima di delle cioè degli impegni delle vite insomma di ostacoli che sono sempre maggiori per mantenere rapporto ehm in realtà appunto si si sta allontanando dai dai vecchi amici e quindi appunto cerca di cerca modi alternativi di ehm di trovare nuovi amici e essendo un informatico tenta la via della app insomma. Ma devo dire che in effetti questa è un po' una domanda che eh ci si pone arrivati a alla quarantina eh cioè che facciamo noi abbiamo degli amici storici non è detto che gli amici storici eh diciamo eh siano disponibili come erano prima non è detto che noi stessi siamo disponibili nei loro confronti come eravamo prima a livello di tempo e di impegni e come si trovano dei nuovi amici a un certo punto della propria vita in effetti è una domanda secondo me importante anche perché appunto è un mondo nel frattempo c'è stata la pandemia che tra l'altro è nel libro anche quindi ehm anche questo è eh un ulteriore apposto diciamo l'attenzione eh sul concetto stesso di relazione interpersonale come viverla e come diciamo la distanza o la non distanza possono essere il fatto di potersi o non potersi vedere diventa fondamentale all'interno di una di un'amicizia e è un po' una riflessione in generale sul modo di vivere le amicizie e poi c'è un altro elemento che è molto importante che è la musica tu a un certo punto scrivi gli amici sono come i gruppi musicali in che senso quando sei adolescente sono il cardine della tua vita accogli quelli sconosciuti con interesse celebri successi dei tuoi preferiti e vai ai loro concerti per dimostrare la tua eterna lealtà poi cresci e la musica diventa solo un sottofondo accettare nuovi artisti nella tua playlist è sempre più difficile e la playlist stessa è sempre più impegnativa da gestire finisci ad ascoltare la radio che non crea legami e ti permette di cambiare stazione al minimo disturbo ho molto riflettuto su questa tua definizione di amicizia legata alla musica perché in effetti un'altra cosa che cambia tanto rispetto all'adolescenza è il rapporto con la musica cioè diventa diverso insomma diventa forse meno viscerale io per esempio so di conoscere a memoria i testi di molte canzoni che ascoltavo quando era adolescente non posso dire la stessa cosa di quelle che anche mi sono piaciute ma che ho ascoltato più tardi come per e pe per e pe di la banda camasani Roberto dimmi sì no allora secondo me io ho pensato questa analogia perché secondo me da adolescenti abbiamo un rapporto molto più stretto con la musica perché abbiamo bisogno di cioè cerchiamo nella musica e nei testi le emozioni che noi non riusciamo a esprimere cioè soprattutto intorno ai 14 15 anni quando iniziamo a lasciare la famiglia tra virgolette e cercare cioè abbiamo proprio bisogno no di scappare un po dall'amicizia di fare nuove esperienze però in realtà siamo ancora giovanissimi non riusciamo a esprimere tutto quello che stiamo provando e ci e cerchiamo nei libri e nella musica quelle appunto qualcuno che riesca a esprimere quello che noi stiamo stiamo provando analogalmente gli amici servono appunto è una diciamo una una famiglia adottiva che cerchiamo che ci aiutano proprio a diciamo a proteggerci e anche a farci andare avanti nella vita gli amici appunto il legame che abbiamo con gli amici dall'adolescenza secondo me è molto più forte perché è basato appunto su questa condivisione di cioè tra paura diciamo di emozione eccitazione no per questa per la vita che stiamo scoprendo per le per le esperienze che che viviamo insieme poi che ci distinguono dalle persone che siamo stati dai ragazzini ok siamo stati fino fino a quel momento e la musica appunto ci fa anche da compagnia ed è praticamente spesso il primo argomento di cui si parla con con gente che si conosce poco che addirittura non si conosce si parte dai quali gruppi ascolti e poi si va avanti e chissà se ancora questo nel senso che è interessante sarebbe interessante capire se come cambia anche no il rapporto della della musica all'interno delle relazioni cioè effettivamente si arriva a un punto in cui non è più una tra le prime domande e soprattutto le generazioni di adesso si fanno ancora quella come prima domanda sulla musica io non lo so è la pongo proprio come come domanda a tutti perché non non ne ho idea però sarebbe interessante e poi c'è anche un altro elemento nel tuo libro che è la musica dal vivo che secondo me è molto molto importante per i quattro amici perché i quattro amici diciamo che continuano a vedersi anche diciamo proprio cercando i concerti dei gruppi che scoprono anche questo è un elemento in più insomma perché il concetto di scoprire musica nuova non è così scontato dopo una certa età non c'è più quella spinta come dice anche tu a confrontarsi con delle cose diverse questo è un grande dilemma anche insomma per per chi fa radio come noi appena si cerca di inserire qualcosa di diverso di nuovo che un po esce dal dai canoni ecco che subito c'è una grande difficoltà ecco da questo punto di vista insomma la musica dal vivo è un po un elemento quasi genetico di questo gruppo di amici loro si vestono in un certo modo per andare a vedere concerti li hanno dei piccoli rituali parlami un po di questo tu anche hai questi piccoli rituali quali sono dei concerti che hanno definito un po la tuo il tuo concetto di amicizia e anche di vita come ascoltatore di musica sì allora sicuramente io insomma amo i concerti ne ho visti tantissimo anzi in realtà io penso di aver rivisti pochi però in realtà perché non mi basta non mi bastano mai però in realtà insomma hanno visti hanno visti abbastanza e i concerti secondo me sono c'è oltre alla condivisione della musica con gli amici i concerti ti riescono proprio a condividere l'esperienza e quindi tutto il viaggio cioè noi ancora a distanza di vent'anni parliamo del del casino che è stato andare a flip out che tra l'altro è citato nel nel libro del 2004 perché non avevamo la macchina siamo sposati in in autobus ci ha preso la pioggia e quindi è proprio un'esperienza che condividi con gli amici e che ti da che ti offre tantissimi ricordi poi nel nel passaggio nel nel futuro diciamo e quindi cioè secondo me appunto la il concerto va oltre la musica è come come se fosse un viaggio insomma in comitiva e per questo che ho voluto parlarne molto nel nel libro perché appunto penso che l'evento che unisce perfettamente amicizia e musica senti che cosa è cambiato da ascoltatore e diciamo persona che ama partecipare ai concerti ai live negli anni secondo te come è cambiata la tua esperienza ora esco un attimo dal libro entro diciamo più nella tua nella tua esperienza personale com'è cambiata diciamo che collettati la resistenza fisica ti imborghetisci diciamo e quindi c'è magari all'inizio hai voglia di stare sotto il palco poi dopo ti stai sempre magari più seduto negli spalti e ti godi lo spettacolo insomma come sicuramente poi dopo da dall'altra parte però c'è il c'è il vantaggio diciamo di una stabilità economica maggiore e quindi anche del di poter vedere concerti più concerti senza avere insomma il patema d'animo sempre di di comprare biglietti insomma di di vivere con un po' più di leggerezza insomma la la spesa economica che che deriva dall'andare ai concerti ma invece che questo è diciamo quello che cambia nel tuo modo no di approcciarti ma invece se è cambiato qualcosa nell'evento in sé cioè che tu hai percepito com'è diverso che ne so sono più più freddi meno freddi cioè c'è qualcosa che è cambiato proprio nel modo di proporre un concerto ma io penso cioè a livello musicale non 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 penso sia cambiato nulla e si vive molto cioè secondo me molto diverso proprio l'esperienza appunto parlavo prima economica c'è una volta stavi lì ore e ore per avere il primo posto in prima fila ora c'è il pit paghi di più e c'è quell'esperienza insomma tutto è molto più diciamo curata a livello di insomma economico i biglietti e di costi biglietti tipologia biglietti piuttosto che una volta è molto più capitalista come esperienza forse un po meno emotiva da quel punto di vista senti un concerto qualcosa di relativamente recente che ti ha colpito particolarmente ma io di recente sono un po in fissa con gli altri bridge per cui ho visto tutti tutte le ultime volte sono venuti in italia sia loro che maz kennedy il cantante da da solista e loro sono bravissimi insomma live e li adoro e mi hanno colpito tantissimo anche i shandown che una volta sono stati sono venuti come gruppo spalla appunto degli altri bridge e hanno una carica live pazzesca che non vedevo da tantissimi tantissimi anni sono sono molto sono molto rock americano io come potete capire senti invece come hanno vissuto i tuoi amici quelli veri la la uscita di questo libro come si sono trovati letti diciamo tra le pagine di questo libro no cioè mi è piaciuto molto perché un po cioè quando parli di amici c'è sempre questa un po paura no scrivi di amici sempre questa paura che magari qualcuno fra intende infatti anche per quello ho voluto fare in modo che i personaggi non rispetti nessuno di loro né tanto meno me con proprio uno a uno diciamo una scala uno a uno e mentre sono stato molto molto colpito da come appunto hanno reagito hanno apprezzato di di riscoprire insomma gli aneddoti che abbiamo vissuto che io poi sono andato a inserire nel libro per arricchire appunto la caratterizzazione dei personaggi e è stato un modo di rivivere cioè ripensare all'amicizia che ci lega è stata l'occasione insomma di di fare un tuffo nostalgico anche noi insomma nel passato nella nostra amicizia il secondo brano che hai scelto che è un brano molto importante all'interno del libro è di un gruppo ecco che è molto importante che io lì per lì non conoscendoli mentre leggevo il libro ho pensato ma questi esisteranno veramente però ho detto sicuramente esisteranno perché se tutti gli altri esistono se c'è questa attenzione vuoi che non esista anche anche questa infatti sono i marmozits penso che si pronunci o marmozets in una cosa del genere si pronunciano così e come le hai scoperti e come mai sono diventati così importanti nel libro? Allora sono importanti nel libro perché sono diventati importanti per me io l'ho scoperti casualmente alla radio e sono stati il primo gruppo dopo tanti anni che mi ha spinto a ascoltare musica nuova quello appunto che dicevi anche tu prima e quindi ho voluto inserirli nel libro anche perché adesso senza dare spoiler diciamo avevo bisogno di una scena di un concerto inventato e loro purtroppo aggiungo io non sono mai venuti a suonare in Italia per cui ho pensato di unire le due cose cioè inventare diciamo un concerto che per scopi narrativi e omaggiare loro per l'importanza che hanno avuto insomma per me Ok ok Domanda tecnica come trovi musica nuova? Soprattutto Spotify penso Ok ok Ascolti qualche radio estera, radio indipendente oppure hai la radio fissata su una stazione particolare in macchina? No io di radio ascolto solo Virgin o Radio Freccia e poi dopo però vado sempre molto su Spotify sui gruppi consigliati oppure l'algoritmo insomma mi fido un po' dell'algoritmo spesso non trovo niente di buono a volte insomma qualche perla capita Senti a proposito di questo a questo punto lo so sembra una marchetta Flexiamo questa cosa Ascolta ogni tanto radio elettrica cioè questa radio ma no ma non perché cioè non è che sei obbligato Quando non ci siamo noi Sì possibilmente quando ci siamo noi perché c'è una grande attenzione alla scoperta di cose nuove e cose interessanti soprattutto gli altri speaker devo dire si impegnano tantissimo in questo quindi se ti capita potrebbero uscire cose buone Trasmette anche Abbiamo un'app che funziona benissimo No trasmette anche una persona che probabilmente era accanto a te a tutti i concerti degli altri bridge Ah sì ecco abbiamo grandi frequentatori di concerti Annarella è cintura nera Abbiamo veramente grandi fan dei concerti E poi facci sapere se siamo più bravi dell'algoritmo Esatto esatto poi ci sentiamo Allora questi sono appunto i Marmozits e il brano si chiama Run with the rhythm Run with the rhythm esatto Grazie mille Roberto a presto Grazie a voi Ciao Ciao grazie Ciao 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 ciao